Salviamo l'asilo ma anche il parco. Questo è il senso del Sittine di oggi in questo piccolo fazzoletto verde tra cinque palazzi alle spalle del Tribunale di Pescara. Non è uno slogan ma un progetto preciso che un esercito di residenti circa un migliaio sta portando avanti contro l'amministrazione Masci che in via Fornace Bizzarri prevede la realizzazione della scuola. Hanno sempre parlato di via Celestino V, poi è emersa la soluzione tecnica di occupare questo parco perché è più semplice per varie motivazioni ma che mano a mano si stanno disgregando. Ecco noi ribadiamo vogliamo l'asilo in zona ma senza distruggere il parco. Si potrebbe utilizzare un'area che dista pochi metri dal parco donata a suo tempo a un ente religioso e che pari risulti idonei all'opera come accertato dai residenti grazie anche ai consiglieri di opposizione di Movimento 5 Stelle e DPD. Parlano di questo parco come se fosse un pezzetto di terra qualsiasi, questo è l'unico parco di Pescara che ha un impianto di irrigazione, 200 milioni delle vecchie lire non sono state spese così perché questo parco dopo doveva essere distrutto, sono stati spesi perché questo parco aveva uno scopo cioè dare un polmone verde a questo complesso di palazzine, 5 palazzine chiuse tra di loro. Noi non abbiamo uno sbocco, non abbiamo neanche l'aria per respirare se non fosse per questo parco. Mia figlia ha 23 anni, dall'età di 5 anni in cui è stato costruito questo parco gioca qui, adesso non gioca più, spero che presto arriverà con i suoi figli a giocare qui. Mio figlio di 14 anni tuttora con i suoi amici gioca in questo parco, è veramente una vergogna, veramente. Cioè sprecare soldi, togliere, l'unica cosa che adesso è necessaria per la sopravvivenza perché noi non abbiamo più aria, nelle città non c'è più aria.